Kart Beach Summer Event, la prima edizione, un evento particolare, tra l'altro con nomi prestigiosi. Sarà un giorno molto intenso dove tanti colleghi amici verranno qui trasportivi e personaggi televisivi a fare due eventi in giornata, di cui la mattinata avremo una gara di kart nel Penny Kart che si costruirà questa settimana a Porto Allegro, nel parcheggio di Porto Allegro, cioè una pista di kart dove avverrà una competizione in tarda mattinata. Poi nel pomeriggio ci sposteremo qui allo stabilimento Penelo Pammare, qui da noi, per avere una competizione di beach volley, per poi concludere la sera con una cena di gala e una festicciola tra amici in cui uno dei miei colleghi Giancarlo Fisichella sarà l'host di beneficenza a livello di DJ. Ci sarà Massimo Oddo, Jarno Trulli e tanti altri. Poi avremo Marco Simone, Jurek Osir, Rungaldier, Ghedina, Marco Melandri, tanti colleghi sotto ogni aspetto. Ci sarà Patrick Ray a livello televisivo, dovrebbe arrivare una delle veline, quindi un po' di cose miste, diciamo un po' di atleti e personaggi del mondo dello spettacolo. Noi facciamo 4-5 eventi all'anno, siamo nati nel 1994, abbiamo quasi 80 ore di mondo visione, più di 600 ore di ferita, quasi 4.000 giornalisti con 230 atleti. È l'associazione che abbiamo creato, io e il Principato di Monaco, per l'aiuto dei bambini. Abbiamo dei progetti in tutto il mondo che hanno molto meno di noi e attraverso eventi che facciamo sportivi, sia calcio, sport, diversi, sci, golf, motorsport, abbiamo dei progetti in tutto il mondo che realizziamo. In questa associazione abbiamo anche Tonio da molti anni, che prima di essere un membro è anche un amico, che ci ha invitati qui, non siamo mai venuti in Abruzzo, ci piace moltissimo, per fare questo evento. Spero che sia una delle prime volte per poi continuare magari tutti gli anni a fare un evento qui in Abruzzo.